Musica Cari telespettatori bentornati in diretta come ogni lunedì sera dopo il telegiornale Occhio alla Notizia torniamo in studio per ospitare i vari sindaci della provincia di Pesaro e Urbino questa sera abbiamo come ospite il primo cittadino di Monteporzio, Giovanni Breccia, buonasera sindaco buonasera Simona, buonasera a tutti i telespettatori e grazie dell'invito che mi avete fatto per questa sera grazie a lei per essere qua, ricordo ai nostri telespettatori che come sempre potranno intervenire in diretta per porre le varie domande telefonando allo 0721 86 14 33 potete anche inviarci un breve messaggio di testo al 338 49 68 250 sindaco anche per lei è arrivato il momento di tirare le somme su che cosa avete puntato maggiormente in questi 5 anni c'è qualche progetto, qualche intervento di cui è particolarmente orgoglioso? Guarda Simona, in realtà nei piccoli comuni in questi ultimi anni abbiamo sofferto davvero tanto le varie leggi che si sono susseguite quindi è stato in primo luogo un lavoro certosino di riorganizzazione anche interna perché davvero in alcuni momenti si rischiava di non riuscire a proseguire nell'attività amministrativa comunale perché effettivamente il comune è fatto da persone quindi molte persone se ne stavano andando in pensione quindi un grosso lavoro che fortunatamente ora ci ha permesso di poter fare vari concorsi e quindi di dare uno sguardo al futuro al comune di Monteporzio e quindi le persone che poi dovranno lavorare all'interno del comune possono far sì che il comune di Monteporzio abbia una prospettiva a lungo termine quindi in primo luogo questo, poi chiaramente tante attività di progettazione, di lavoro che è un lavoro quotidiano, diciamo quotidiano Iniziamo a parlare un po' di tutto quello che è stato fatto in questi anni cominciamo con le scuole, c'è stato un importante intervento di ristrutturazione vediamo un'immagine alle sue spalle Sì, allora l'immagine che vediamo è un rendering quindi in realtà abbiamo ottenuto il finanziamento di ristrutturazione di 998 mila euro per l'intero plesso in realtà il progetto è partito diversi anni fa con l'attuale vice sindaco Patrignani quindi finalmente oggi siamo stati assegnatari di questo contributo quindi nei prossimi mesi vedremo il bando per realizzare proprio l'intervento quindi questa è un'immagine di come effettivamente verrà poi una volta ultimati i lavori un intervento molto importante perché riguarda il miglioramento antisismico dell'intero edificio quindi una sicurezza per tutti gli alunni e quindi chiaramente ci avevamo puntato diversi anni fa e finalmente arriviamo a vedere la luce in fondo al tunnel Quando diceva prossimi mesi? Sì, il progetto definitivo sarà pronto tra circa un mesetto poi il bando che verrà fatto dal suo provinciale quindi i tempi necessari sono necessari l'avvio dei lavori, insomma l'assegnazione dei lavori è previsto entro agosto quindi poi di seguito l'avvio proprio dei lavori Un altro argomento sempre molto amato dai cittadini è quello delle strade i lavori di asfaltatura, anche qua siete intervenuti Sì, allora abbiamo diversi progetti in partenza diciamo nelle prossime settimane sia su manutenzione straordinaria che riguarda alcune vie esterne diciamo i centri abitati e abbiamo anche un intervento su via Mazzini in cui sono stati fatti diversi lavori per riqualificazione delle linee dell'acquedotto quindi in collaborazione con Aset e ora in collaborazione con la provincia avremo l'asfaltatura di tutta via Mazzini all'interno del centro abitato per un importo indicativo di 60.000 euro e 60.000 euro riusciremo ad impiegare per manutenzione straordinaria appunto delle nostre strade esterne un pochino più di campagna diciamo c'è sempre bisogno, i fondi che servirebbero sono esponenzialmente più alti purtroppo gli investimenti soprattutto nei piccoli comuni sono decisamente molto limitati qualcosina si sta sbloccando ora naturalmente ne siamo contenti perché ogni euro che possiamo investire nella manutenzione insomma è benvenuto In particolare in quali strade, in quali frazioni insomma interverrete? Guarda, sì sì abbiamo via Montebello e via Fusarola sono due importanti vie perimetrali e come ti dicevo qui avremo 60.000 euro di intervento che partirà insomma davvero tra pochi giorni Un altro intervento davvero molto importante è la riqualificazione del centro storico Sì, abbiamo nel corso degli anni scorsi avuto un bel intervento su Castelvecchio centro storico di Castelvecchio mediante un progetto denominato Centoborghi abbiamo approvato di recente un progetto di riqualificazione su via Mazzini che riguarda diciamo dal monumento ai caduti che è uguale, ha avuto una precedente ristrutturazione che riguarderà tutti i marciapiedi di via Mazzini quindi un ammodernamento perché ce n'è davvero bisogno centri storici e il fulcro chiaramente dei due paesi sia di Monteporzio che di Castelvecchio E' un po' insomma il motore Sì Per la sicurezza invece qui avete lavorato ci sono stati gli interventi, pensiamo ad esempio alle telecamere Sì, allora con l'ambito sociale 6 che a capofila poi fanno abbiamo completato un progetto di installazione di alcune telecamere di sicurezza sia nella scuola elementare sia nel viale di Monteporzio nel parco cittadino dietro al comune chiaramente non è sufficiente perché tante telecamere installi e tanti altri problemi si possono creare in altre zone Certo, come diciamo sempre a sicurezza non è mai abbastanza Avremo altre tre telecamere da installare nelle prossime settimane quindi un'aggiunta di tre punti video sorvegliati che di sicuro non guasta Dove esattamente? Anche l'asilo uno di questi? Sì, uno di questi è previsto nell'asilo Latoni in cui abbiamo avuto qualche problema diciamo notturno Un altro punto è dedicato alle isole ecologiche che anche lì chiaramente dei problemini ci sono è un altro monumento ai caduti, quindi il centro storico di Monteporzio Passiamo a un altro intervento allo spogliatoio del centro sportivo qui c'è stato un completamento? Sì, mancano le ultime rifiniture però abbiamo partecipato a un bando del CONI quindi siamo stati segnatari di 170 mila euro a tasso zero quindi mediante il CONI chiaramente il centro sportivo Limpia è un punto focale tra Castelvecchio e Monteporzio quindi abbiamo tante società sportive che operano sul territorio dalla pallavolo, due società di calcio, tecondue, tanto altro, ginnastica dolce Quindi fondamentale anche per i momenti di aggregazione Esatto, assolutamente sì è un punto fondamentale di aggregazione e quindi ecco questo intervento spogliatoio che erano diciamo carenti quindi siamo riusciti ad implementare insomma il numero a disposizione degli utenti quindi importante, presto faremo l'inaugurazione Quindi anche un bar a servizio un po' tutti Sì, beh certo, il bar è un progetto addirittura precedente chiaramente una struttura di questo genere che nella vallata comunque non ne vede tantissime di queste dimensioni ritenevamo insomma che fosse importante avere anche un punto che potesse servire l'intera struttura Avete già fissato una data per il taglio del nastro? Ancora no perché dobbiamo finire un paio di lavori però sarà davvero imminente E l'efficientamento energetico anche qui avete lavorato come amministrazione comunale? Sì, guarda, partiamo da qualche anno fa quando installammo il Dibavat quindi un sistema di riqualificazione di tutti i punti luce che prevede un abbassamento della luminosità notturna quindi prevede un notevole risparmio energetico e in più abbiamo installato sia nel centro sportivo Olimpia sia nel comune stesso, nel municipio, nella sede municipale due impianti fotovoltaici che a dire la verità ci sono costati zero perché provengono da una compensazione su quegli impianti che sono stati fatti a terra di fotovoltaico quindi costo zero, risparmio energetico e in più nel municipio abbiamo completato qualche anno fa il riscaldamento a pompe calore che vanno con i pannelli fotovoltaici quindi chiudiamo il cerchio Quindi non solo in comune ma anche nella palestra? Anche nella palestra, abbiamo un impianto di 35 kilowatt quindi notevole insomma È un comune riciclone Monteporzio, giusto? Sì, Monteporzio risulta ormai da diversi anni comune riciclone la percentuale ha toccato Ecco, vediamo qua la fotografia Sì, la fotografia fatta di recente in provincia con lega ambiente percentuale che si attesta intorno al 73, 74, 75% a seconda degli anni È chiaro che molto spesso ci sono dei problemi nelle isole ecologiche che vengono gestite da Aset che è il nostro gestore per i rifiuti Abbiamo anche un operatore ecologico, Massimiliano che tutti i giorni provvede a curare le isole ecologiche e con passione cerca di tenerle in più in ordine possibile perché purtroppo spesso c'è qualche cittadino che all'onor del vero molto spesso ci rendiamo conto che non sono neanche del nostro comune quindi vengono da fuori e si trovano buste lanciate al volo quindi un vero peccato perché in realtà il 99% della popolazione fa un buon lavoro che può sempre migliorare però diciamo che non ci lamentiamo Però diceva che c'è anche questa installazione delle telecamere nelle varie isole ecologiche come deterrente Già in passato abbiamo utilizzato diverse volte delle telecamere anche mobili che quindi a seconda dell'occasione installavamo e sono state fatte anche delle multe relativamente a questi filmati che poi abbiamo scovato C'è anche un servizio porta a porta? Sì, il porta a porta, diciamo la nostra raccolta differenziata studiata con Aset prevede una raccolta porta a porta per l'indifferenziato e l'organico mentre di prossimità per tutto il resto e diciamo che ecco i risultati sono buoni Un 73% Si Si può sempre migliorare Si può sempre migliorare Soprattutto bisogna migliorare un po' sulla qualità e anche qui stiamo pensando alcune soluzioni con lo stesso gestore Aset quindi vedremo Dovremmo avere una foto anche relativa alla segnaletica alla segnaletica nella strada statale Sì, questa è stata fatta di recente lungo la strada statale 424 in altre zone relative diciamo ai due centri di Monteporti e Castelvecchio purtroppo da quando la strada è tornata all'ANAS circa due anni fa la segnaletica orizzontale nei centri urbani non è più fatta dal gestore della strada e tocca ai comuni Quindi dimostra di competenza Quindi meno risorse più competenze qualche volta insomma si fa un po' fatica a capire Parliamo anche della rete idrica qui c'è stato un rifacimento in diverse zone come dicevo anche via Mazzini insomma via Mazzini ha subito diversi interventi E' una via diciamo la via centrale di Monteporti però ecco con il gestore ASET sono stati programmati nel corso del tempo davvero tanti interventi sulla rete idrica e addirittura anche il rifacimento proprio della depurazione dell'acqua del depuratore quindi a filtro osmosi inversa è un impianto diciamo a livello tecnologico molto avanzato quindi la qualità dell'acqua è molto elevata e quindi oltre a questo molte altre vie sono state riqualificate anche perché ecco diciamo che rispetto a diversi anni fa abbiamo notato la differenza insomma una volta l'acqua mancava molto spesso ora invece c'è una costanza che è quasi totale insomma e tra l'altro questo ci permette con il nuovo impianto di depurazione di soffrire davvero poco anche nei periodi estivi in cui invece molti molti comuni insomma devono emettere ordinanze perché effettivamente c'è grossa carenza e chiaramente anche noi teniamo al risparmio idrico però da questo punto di vista siamo molto garantiti A quanto ammonta questo investimento? Ma sull'impianto di depurazione oltre 150 mila e tra tutte le tratte rifatte ci aggiriamo abbondantemente sopra i 400 mila euro di investimento portato avanti da ASET Il bilancio preventivo invece è stato già approvato? No, il bilancio preventivo andremo in approvazione questa settimana venerdì quindi è convocato il Consiglio Comunale A proposito di acqua di rifiuti le bollette sono aumentate? Ma guardi in realtà per quanto riguarda i rifiuti il piano economico è rimasto rimasto invariato rispetto all'anno scorso quindi non avremo modifiche per quanto riguarda l'idrico in realtà non viene stabilito dal comune la tariffa quindi sia lato sia lato che a livello nazionale la decisione diciamo ci scavalca un po' per quello che riguarda invece le tariffe comunali Monteporsi ha fatto una scelta qualche anno fa di tenere le aliquote base per quello che riguarda Tari e IMU e chiaramente questo è stato fatto per agevolare tutte quelle attività che sono sul nostro territorio manteniamo questa scelta non è semplice perché molto spesso la mancanza di risorse è pesante e quindi ecco qualche volta si è deciso chiaramente di salvaguardare il sociale quindi di assistere chi ha più bisogno e il sindaco ha fatto qualche opera in meno perché chiaramente davvero la coperta è corta quindi si tira e si scopre insomma anche la crisi si fa sentire ci sono delle attività che ne hanno risentito delle attività commerciali in particolare verso il centro storico beh guardi diciamo che la Val Cesano nel corso degli ultimi anni ha avuto una grossa crisi per quello che riguarda il nautico quindi di sicuro si è sentito molto questa problematica però nel corso del tempo devo dire anche come sindaco sono stato chiamato più volte ad inaugurare nuove attività quindi la cosa ci fa ci fa molto piacere una proprio sabato scorso quindi dei ragazzi che insomma intraprendono una nuova via quando sono giovani sono giovani assolutamente assolutamente benvenuto non è semplice non è semplice non è semplice ci vuole tanto coraggio e quindi un plauso a tutte le persone che nel corso del tempo insomma si sono date da fare anche per tenere viva la nostra comunità certo e il comune prevede anche magari qualche incentivo non so su una riduzione di guardi no nello specifico no però come ti dicevo la scelta di tenere tutte le aliquote al minimo chiaramente è un bel aiuto incide molto ed è un bel aiuto abbiamo ancora tanti argomenti da affrontare parleremo di associazioni di eventi ma anche di elezioni comunali perché mancano soltanto due mesi ci fermiamo soltanto per qualche istante di pubblicità a fra poco e dopo una brevissima pausa siamo tornati in diretta con il sindaco di Monteporz Giovanni Breccia sindaco dicevamo ancora abbiamo tanti argomenti da affrontare ripartiamo con i lavori effettuati al cimitero sì sono partiti poche settimane fa quindi la costruzione di nuovi loculi di nuovi colombari per 280 mila euro di lavori complessivi in più sono previsti subito in un primo stralcio di 50 mila euro di lavori per mettere in sicurezza e sistemare alcune parti soprattutto nell'ala vecchia diciamo del cimitero quindi quella che risente un po' di più ne risente un po' di più quindi c'è bisogno di un intervento diciamo immediato e sono previsti poi altri 70 mila euro per interventi successivi sempre per ammodernare la parte più più datata diciamo quindi ecco questa costruzione di loculi molto importante per risistemare tutto il cimitero entro l'anno più o meno sì assolutamente i loculi sono già in fase attuativa e di sicuro entro l'anno si procede a tutto il resto parliamo anche di un progetto di efficientamento energetico CPL di che cosa si tratta? sì abbiamo avuto ecco una collaborazione con CPL che ci ha presentato un progetto di efficientamento energetico di tutti i punti luce del comune quindi un passaggio a LED e inoltre anche la gestione e l'efficientamento energetico degli impianti termici che riguardano quindi tutte le scuole e anche la palestra comunale quindi complessivi lavori di 100.000 euro annui che andranno poi è un intervento sì andranno poi affidati per 20 anni chiaramente sono previsti anche altri tipi di lavori come alcuni impianti fotovoltaici nelle scuole quindi per poi risparmiare maggiormente energia e chiaramente un controllo da remoto di tutto quello che è l'illuminazione pubblica e gli impianti di riscaldamento quindi un efficientamento davvero importante che cerchiamo di progetto già approvato di portarlo a bando ecco nel giro delle prossime settimane Monteporzo è un comune di circa 2800 abitanti però ci sono tante associazioni e tanti giovani che hanno voglia di fare di mettersi in gioco e di organizzare iniziative sì questo è molto importante la proloco locale composto essenzialmente da da giovani da ragazzi che chiaramente nelle difficoltà attuali anche delle normative sulla sicurezza ma non è facile c'è qualche evento che anche le sappia che è saltato che non si potrà proprio direttamente no però ecco qualche volta ci si pensa un pochino di più prima di fare un evento perché chiaramente non è semplice mettere tutto in fila nonostante questo insomma le attività sono diverse ma non solo della proloco ma anche di gruppi che portano avanti la tradizione che si perde ormai un po' nella notte dei tempi come ad esempio Sant'Antonio la benedizione degli animali che si fa in piazza Castelvecchio e Sant'Antonio è una particolarità perché ogni persona che porta un animale alla benedizione avrà anche un panino benedetto con la salsiccia di Sant'Antonio che è una salsiccia cotta interamente nel vino quindi una prelibatezza non da poco tutta locale tutta locale tutta locale sì anche perché Castelvecchio il comune di Monteportio hanno portato avanti una deco una denominazione comunale di origine per la salsiccia di Castelvecchio perché ormai da diversi decenni abbiamo dei produttori storici che sono Angeloni e Gerecarni quindi ecco eccolo qua vediamo il logo questo è il logo promosso tramite la Proloco e tramite l'amministrazione comunale per riconoscere effettivamente una tradizione che per il paese è davvero importante insomma prima di proseguire con gli eventi vado a leggere un messaggio di un telespettatore buonasera domandate al sindaco Breccia perché la strada via Montecucco è lasciata in stato di abbandono totale ci scrivono buche priva di asfalto illuminazione insomma solo il via Lecante ma anche la periferia quello che dicevo prima via Fusarola la strada che poi da Castelvecchio porta in direzione Montecucco andremo nelle prossime settimane i lavori sono già appaltati a fare dei lavori di manutenzione straordinaria purtroppo non abbiamo le risorse per poter diciamo riasfaltare tutta la via che è pure molto lunga quindi di sicuro ha bisogno quella via di interventi straordinari perché effettivamente è in difficoltà sì Continuiamo allora con questi eventi abbiamo parlato di salsiccia ma ce ne sono tanti altri beh sì oltre diciamo a Sant'Antonio abbiamo avuto nelle scorse settimane organizzato la Proloca proprio il San Giuseppe quindi delle fiere storiche di San Giuseppe con la partecipazione anche delle scuole e quindi di tutto il paese e con un evento decisamente partecipato una camminata e soprattutto un percorso bike quindi c'è stata una tappa di un percorso bike bike che si ricollega molto bene anche a dei progetti che abbiamo portato avanti con il Gallo Flamia Cesano che poi magari dopo approfondiremo e che quindi chiude un cerchio chiaramente la salsiccia Anticanton che di solito si svolge a luglio inizio di luglio una manifestazione anche questa storica che si perde nei decenni e che vede come si può vedere dall'immagine una partecipazione straordinaria poi alcuni eventi anche portati avanti dal Comune come Natale al Cioccolato ideato tra l'altro dal Vice Sindaco Patrignani una manifestazione davvero forse unica nel suo genere perché ci viene donato tutto quello che proponiamo nei mercatini quindi aziende di tutta Italia ci mandano cioccolato da tutta Italia da tutta Italia sì anche dal sud Sicilia dolciumi di tutti i tipi ma non solo anche vino delle cantine locali olio e quant'altro quindi si organizzano dei mercatini che insieme poi alle scuole locali i bambini dell'asilo facciamo due giorni diciamo di festa che il ricavato decidiamo poi di volta in volta di donarlo a qualche associazione dell'associazione del posto un anno siamo andati ad esempio a Castel Sant'Angelo sul Nera con il sindaco Falcucci che poi colpita dal sisma che poi è qui di Fano sì siamo andati in visita e torneremo a distanza di un anno e mezzo circa per anche vedere com'è la situazione un po' evolve certo anche perché lì insomma c'è ancora tanto da fare sì la Pasquella invece? la Pasquella sì avviene una serata diciamo la sera prima della Befana quindi il 5 di gennaio ci sono degli stornellatori quindi con con abiti dedicati e con strumenti artigianali quasi tipici che girano per le vie del paese e soprattutto in alcune casate a cui vanno a far visita cantando e diciamo augurando il buon anno nuovo e quindi anche questa è una tradizione che si perde nella notte dei tempi che è stata riportata in auge da qualche anno e che davvero un plauso ai ragazzi alle persone sono personaggi locali? sì 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 tutti personaggi locali una tradizione che viene tramandata una tradizione che viene tramandata di anno in anno e quindi davvero bravi dicevamo di queste associazioni oltre alla Proloquo ce ne sono anche altre sì beh per quello che riguarda il comune abbiamo Monteporto e Cultura il presidente David Guanciarossa che nel corso del tempo ha portato avanti molteplici attività una tra tutte la foresta fossile che nel parco della vita di Monteporzio devi sapere che noi abbiamo due splendidi parchi della vita lungo fiume gestiti diciamo e mantenuti in forma dall'associazione Terragobba quindi anche qui dei volontari che si prodigano per tenere il posto per il bene comune per il bene comune e nel parco di Monteporzio abbiamo appunto una foresta fossile in cui ci sono degli affioramenti di residui di una foresta di oltre 50 mila anni fa quindi abbiamo delle teche un percorso organizzato che permette anche qualche volta alle scuole di fare una visita diciamo guidata ecco e questo è un punto il parco di Monteporzio che per la nostra prospettiva va collegato con Corinaldo perché di là dal fiume abbiamo appunto Corinaldo dei percorsi bike anche in questo caso o di camminata dolce e il mulino Patrignani quindi un percorso naturalistico che avrebbe davvero un senso completare e poi ci sono dei gruppi di lettura insomma tutto basato sulla cultura locale Monteporzio Cultura porta avanti i gruppi di lettura ha fatto recentemente di gemellaggi con il museo onore dei nobili di Trecastelli quindi ecco le attività sono molte corsi di ogni tipo non dimentichiamoci la scuola di musica di Monteporzio una scuola di musica ideata e diciamo sviluppata originariamente dal maestro Albino Mattei che è stato anche direttore del conservatorio Rossini di Pesaro che abita a Castelvecchio quindi un nostro nostro cittadino quindi con piacere lo ricordo e ricordo il percorso che ha fatto la scuola di musica che nonostante le difficoltà di questi anni continua e ha diverse iscrizioni insomma l'importante anche attività svolta dall'Avus dobbiamo citarlo sì decisamente come dicevo prima gran parte del bilancio comunale lo abbiamo destinato a chi effettivamente ha più bisogno sia nell'assistenza scolastica diversamente abili sia a un fondo di solidarietà per quelle famiglie che si sono venute a trovare in difficoltà e che quindi necessitano di un po' d'aiuto e quindi l'Avus proprio in questo settore ci dà un'enorme mano perché organizza diciamo dei pacchi viveri che poi vengono distribuite alle famiglie che tramite l'assistente sociale risultano diciamo segnatare quindi un grosso un grosso lavoro che altrimenti non riusciremo il giorno d'oggi poi esatto sì è importante le difficoltà sono tante sono tante sono tante e come diceva prima anche le tante società sportive che rendono viva la città decisamente il centro sportivo olimpia è davvero molto utilizzato perché oltre a due società di calcio il Castelvecchio e il Monte Porze abbiamo una una folta partecipazione a una squadra di pallavolo che ha diverse categorie quindi davvero molte ragazze il Taekwondo ginnastica dolce quindi davvero tante attività che vengono svolte nel centro sportivo olimpia che aggrega effettivamente davvero molte molte persone quindi un punto focale ci stanno scrivendo anche dei messaggi per fare dei complimenti gliene leggo uno complimenti al sindaco sempre gentile disponibile e sempre preciso è preciso lei solitamente ci proviamo ci proviamo non sempre si riesce ma ci proviamo quali attività svolgetti invece per promuovere il vostro territorio guardi per un comune come Monteporzio che siamo praticamente il più piccolo della media Valcesano se sudiamo quindi le zone interne abbiamo ritenuto necessario entrare in circuiti che siano un pochino più ampi rispetto al comune stesso quindi vedevamo prima Città della Birra un'associazione cui abbiamo contribuito alla fondazione insieme a altri otto comuni un'associazione nazionale che diciamo prevede l'adesione di quei comuni che hanno al loro interno un birrificio agricolo artigianale quindi un produttore sì abbiamo un produttore Angeloni quindi un birrificio agricolo artigianale che quindi ecco ha permesso tramite poi anche grazie alla regione Marche che proprio alcuni mesi fa ha finanziato un progetto che è uno start diciamo una partenza con delle brochure pubblicitarie e prevede l'unione appunto tramite strade della birra di tutti questi comuni che hanno birrificio artigianale al loro interno quindi per promuovere un po' anche le varie attività e sostenerle come dicevamo prima visto che il periodo non è proprio dei più semplici inoltre possiamo dire che tramite anche il Gal Flaminia Cesano esatto prima infatti mi accennava di questi finanziamenti sì perché che il Gal Flaminia Cesano diciamo è un organo che è deputato ad assegnare dei fondi regionali ma anche europei tramite dei bandi chiaramente e la media Val Cesano ha creato un PIL con il tema del Cesano Experience quindi la mobilità dolce bike cavallo e tutto quello che riguarda la mobilità dolce e ecco tramite questi bandi stiamo realizzando un progetto che collega tutti i comuni quindi San Costanzo Monteporzo San Lorenzo Mondavio Fratterosa Trecastelli e Corinaldo quindi la media Val Cesano sulle due sponde e come dicevo prima il sogno sarebbe collegare il Monteporzo il Parco della Vita con Corinaldo chiaramente occorre fare un ponte un piccolo ponte chiaramente pedonale e al limite bike sul Cesano però la prospettiva c'è i fondi per iniziare questo progetto ci sono e la peculiarità del progetto è che tramite il bike e la mobilità dolce vogliamo diciamo agevolare incentivare le attività che sul territorio sussistono e che hanno magari una bella peculiarità come la Salsiccia Deco o aziende agricole biologiche birrifici e quant'altro e favorire e favorire un po' anche l'ambiente e favorire di sicuro anche l'ambiente e soprattutto ecco le persone che tramite la mobilità dolce si mantengono anche in forma dunque c'è un'altra peculiarità del vostro comune che avete sempre insomma detto come è giunto che la persona sta al centro insomma al centro dei vostri progetti che cosa significa che cosa avete fatto appunto per aiutare i più deboli io sì per quanto riguarda ecco i più deboli oltre all'aiuto dell'Avuls ci siamo dedicati molto ad esempio nell'assistenza scolastica per i disabili vedo spesso delle statistiche insomma Monteporzio ha davvero una grossissima quota che dedica a chi effettivamente si trova più in difficoltà quindi intendiamo mantenere questa via perché riteniamo importante anche perché effettivamente nei piccoli comuni riteniamo che sia comunità un piccolo comune quindi il rapporto con le persone e l'aiutarsi è un po' una peculiarità che magari ci distingue da città più grandi che magari hanno altri problemi altre peculiarità però ci distingue quindi anche il fatto che una proloco un'associazione mantenga viva una tradizione un'attività secondo me significa fare comunità appunto certo poi c'è anche il progetto Auser insomma tante iniziative perché come diceva lei quando poi un comune è piccolo ci si conosce tutti quindi si conoscono proprio di persona a volte anche i problemi delle persone è fatto bene ricordarmi del progetto Auser perché abbiamo diverse persone che collaborano per qualche spiccio lo diciamo ma ci fanno davvero un lavoro importante che altrimenti il comune non riuscirebbe a portare avanti oltre alle borse lavoro abbiamo poi tante borse lavoro di persone che lavorano anche all'interno del comune e che anche in questo caso fanno un lavoro davvero davvero importante come dicevo prima il comune è fatto da persone quindi senza le persone che ci credono e che possano lavorare si fa davvero fatica già accennato di qualche collaborazione con i comuni limitrofi vedevo prima una fotografia di un bel gruppo vediamo un attimo se riusciamo a riavere questa foto se non sbaglio era la polizia municipale della polizia municipale ecco qua sì questa è una recente convenzione che abbiamo stipulato con Mondavio e San Lorenzo ecco vediamo il sindaco dell'Unti sì dell'Unti che è stato ospite poche settimane fa la convenzione con Mondavio in realtà per noi è attiva da molti anni ecco abbiamo deciso di allargarla a San Lorenzo perché riteniamo che comunque la media valcesano abbia bisogno di interconnettersi di sicuro e di creare un punto di forza dobbiamo dire che i risultati ci sono perché un comune come Monteporzio con due soli vigili con tutte le incombenze burocratiche che ci sono farebbe davvero fatica parliamo prima di sicurezza certo anche le telecamere sono fondamentali ma gli agenti sul territorio lo sono ancora di più quindi è chiaro che ecco un'unione con oltre dieci agenti insomma permette davvero di avere un controllo maggiore sul territorio e poter dare una risposta a tutte le esigenze che ci sono e parlavamo anche di un altro progetto sempre per quanto riguarda queste collaborazioni il PIL anche qua c'è sì il progetto integrato locale di cui dicevo prima fa parte quindi del GAL Flaminia Cesano non è stato semplice ci sono voluti diversi anni di lavoro perché sembra semplice mettere insieme dei comuni ma poi in realtà si è creata una sintonia fin da subito su questa media Val Cesano e pensiamo che questo progetto che riguarda il fiume Cesano in primis ma la mobilità dolce e il collegamento dei borghi quindi dei vari comuni sia un progetto che possa avere nei prossimi anni un grosso respiro e quindi ecco ci puntiamo il GAL al momento ha stanziato 1.300.000 euro suddivisi tra tutti i comuni ma poi usciranno altri bandi quindi oltre a una prima fase di collegamento tra i vari comuni poi potremo anche puntare su nuovi progetti mi viene in mente il collegamento dei parchi della vita Monteporto e Castelvecchio quindi creare dei percorsi lungo fiume che siano davvero salute una bella occasione continuiamo a parlare di giovani e di nuove attività dovremmo avere un'altra foto che riguarda il centro storico e anche insomma delle aree del centro abitato tutto che fa parte della promozione sì sì è chiaro i due centri storici sia Castelvecchio come il castello Barberini quindi abbiamo un castello originario le prime parti intorno all'anno 1000 e poi il centro storico di Monteporze dei palazzi storici che sono costruiti intorno al 1700 quindi diciamo la storia dei due centri che chiaramente la fa da perdone poi naturalmente i giovani che si propongono e quindi danno nuova linfa e vita ai centri storici che altrimenti rischiano di spegnersi quindi un plauso a loro su attività anche diversissime perché oltre ai bar o ai birrifici o quant'altro abbiamo anche delle nuove tecnologie che vengono sviluppate quindi abbiamo sempre sentito parlare di bitcoin e a Castelvecchio abbiamo dei ragazzi che ci lavorano su questo settore questi ragazzi che vediamo nella fotografia esatto esatto e quindi ecco alcune volte pensiamo alla tecnologia lontana in realtà ce l'abbiamo sotto casa beh certo insomma sono anche progetti importanti anche difficili credo quindi sono davvero bravi mancano dicevamo prima pochi mesi alle elezioni comunali lei è stato letto nel 2014 per cui insomma con la lista civica il comune per tutti si ricandiderà alle prossime elezioni comunali? guarda io penso che tutti i sindaci che conosco fanno diciamo un lavoro che è improntato sulla passione quindi si dedicano praticamente come volontari alla gestione del proprio comune e questo accomuna anche a me chiaramente quindi l'intenzione è quella di portare avanti questo lavoro per un secondo mandato chiaramente le difficoltà sono tante quindi qualche volta ci si pensa però insomma la passione l'amore per il proprio territorio la fa da prendono sopravvento prendono sopravvento sì 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 ha già degli avversari politici insomma qualche voce c'è solo voci per ora nulla di ufficiale non c'è nulla di ufficiale però di sicuro sì ci saranno degli avversari ecco se dovesse essere riconfermato in questo suo secondo mandato già vari progetti insomma li abbiamo citati ma c'è qualcos'altro in particolare su cui beh certo si vuole di sicuro portare avanti il discorso i progetti che abbiamo intrapreso in questi cinque anni ma anche prima quindi i progetti vanno avanti e soprattutto direi che ci dedicheremo di sicuro alla sicurezza scolastica quindi oltre al plesso di cui abbiamo visto prima abbiamo già presentato altre richieste di finanziamento per le altre scuole che abbiamo quindi la messa in sicurezza dei edifici pubblici la farà da padrone e poi chiaramente la gestione del territorio perché è fondamentale e anche mantenere le associazioni visto che dicevano l'importanza delle persone che fanno parte anche della vita comune poi e che portano avanti tramandano varie se possiamo dare una mano e volentieri perché tramite l'associazionismo poi si regge gran parte delle attività che si fanno e che dicevamo insomma ne fanno parte tantissimi giovani quindi è bello sapere anche tantissimi giovani anzi quasi maggioranza di giovani quindi di sicuro una buona prospettiva per il futuro e cerchiamo di sostenerli insomma bene sindaco quindi anche lei insomma ci ha confermato che si ricandiderà per il suo secondo mandato poi ovviamente i tempi si stanno avvicinando quindi vanno spediti scopriremo anche il suo programma elettorale con precisione io intanto ricordo i nostri telespettatori che fra pochissimo dopo il telegiornale l'edizione di mezzasera trasmetteremo la partita di pallavolo di serie A2 che si è disputata tra la Golden Plast Potenza Picena e la Lago Negro purtroppo la Golden Plast ha perso fuori casa io sindaco la ringrazio per essere stato nostro ospite è la prima volta che è venuto nei nostri studi giusto? sì sì davvero la prima volta la prima diretta la prima diretta in assoluto grazie a voi per l'invito grazie grazie mille speriamo di riaverla di averla presto e un saluto a tutti i nostri telespettatori buon proseguimento di serata e arrivederci buonasera buonasera a tutti grazie a tutti